buongiorno a tutti ed eccoci a una nuova videopillola del mercoledì mindset questa settimana più che diciamo una frase un argomento io volevo partire proprio con una domanda mi chiedevo infatti perché nel trading si affretta io noto da tante persone voi che ci seguite che spesso si ha veramente tanta fretta io non riscontro questa fretta in altre attività vi spiego bene nell'ambito del trading credo che sia dovuto spesso anche all'approccio che si ha perché magari si vedono delle pubblicità che ti fanno sembrare un po troppo facile fare soldi col trading e questo evidentemente dentro di noi si stampa e ci dà un certo senso di fretta nel senso che siccome vediamo la cosa facile pensiamo che ci mettiamo apriamo un conto ci mettiamo a operare e arriveranno i risultati perché o perché siamo bravi o per fortuna o perché seguiamo il guru del momento in realtà se ci pensiamo e questo vi volevo dare appunto uno spunto di riflessione da questa domanda perché si affretta nel trading mentre nelle altre attività della vita spesso non non la sia perché appunto nelle altre attività noi abbiamo già consapevolizzato che c'è un percorso da fare mentre nel trading forse spinti appunto da queste pubblicità o da un da proprio da un approccio che magari la vediamo un'attività troppo semplice per guadagnare perché in effetti se ci pensiamo basta un click no per entrare al mercato e quindi avere la possibilità di guadagnare ma in realtà è un'attività molto molto più se vogliamo da un lato è semplice come attività perché alla fine basta un click poi dall'altro in realtà è molto difficile proprio per tutte le complicazioni soprattutto di ramo psicologico di mindset come noi diciamo che 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 implicano tante competenze allora ok la domanda quindi perché si affretta si affretta per questi motivi ma indipendentemente dal motivo per cui si affretta noi per superare questo problema e quindi per non avere fretta c'è un'unica strada per da percorrere diciamo o almeno quella che consiglio io è una strada che sicuramente può portare a diventare dei bravi trader quindi se l'obiettivo di chi magari vede questo video o comunque delle persone che ci seguono è quello appunto di diventare dei bravi trader di essere profittevoli nel trading e non solo entrare al mercato e uscire cercare di guadagnare provare no quindi andare a tentativi ma acquisire proprio un metodo efficace allora la strada secondo me è abbastanza indicata noi spesso ne parliamo in questo spazio ma oggi vi voglio fare proprio una serie di punti cioè noi quando ci mettiamo a fare trading dobbiamo partire uno con un approccio propositivo nel 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 senso che dobbiamo sapere che intanto dobbiamo acquisire delle competenze questo è il primo è il primo punto perché ogni attività umana no non può partire dal buttarsi e basta bisogna prima di tutto studiare acquisire le competenze ma ancora prima se ci pensiamo bisogna avere un piano cioè noi dobbiamo stabilirci un piano d'azione che ci porti ad essere dei trader efficaci dei trader profittevoli e appunto questo piano d'azione a primo punto prevede proprio l'acquisire le competenze ora acquisire le competenze che riguardano a 360 gradi le competenze attenzione non parlo solo di competenze tecniche ma parliamo di competenze tecniche mentali e operative di tranquillità di serenità cioè acquisire le competenze come si acquisiscono queste competenze per esempio iscrivendosi a dei percorsi formativi per iniziare a capire trovarsi per esempio un maestro un qualcuno che ci possa veramente insegnare questa che è più un'arte che più è un mestiere no è un'arte il trading quindi intanto bisogna capire consapevolizzare che non si può guadagnare se non si hanno le competenze è matematico quindi se fai trading da un mese da due mesi da tre mesi ma anche da sei mesi e hai fatto vari tentativi in vari modi copiando l'operatività di qualcun altro e tutto non non puoi guadagnare non puoi guadagnare se guadagni guadagni nel brevissimo tempo per esempio inizi a copiare un nuovo metodo o a guardare quello che fa un altro inizi a fare quella stessa cosa per un periodo di tempo magari le cose ti vanno ti vanno anche bene ma non è un metodo collaudato il piano consiste in questi punti e ora vi li elenco acquisire le competenze operare con rischi bassi questa è un'altra cosa fondamentale perché quando si è acquisito un minimo di competenze e si inizia ad aprire un conto quindi all'inizio come vi dicevo anche nell'altro video vi sconsiglio di operare perché all'inizio l'obiettivo deve essere solo quello di imparare ma una volta che si è o diciamo imparato per sei mesi un anno iniziare operare però con rischi bassi è fondamentale è inutile operare con il dieci per cento di rischio in un trade è un qualcosa che ci danneggia ok che vogliamo fare prima sempre perché abbiamo fretta e questa fretta ci viene spesso dobbiamo saperlo sempre da quella parte più antica di noi però insomma bisogna essere molto molto concentrati sul piano il piano è acquisire le competenze operare con rischio basso reiterare questo tipo di operatività e quindi fare parecchie esperienze sul campo fino a diventare sicuri del proprio metodo perché il metodo è molto personale non si può esattamente replicare il metodo di un altro trailer quantunque questo questi siano bravi ognuno di noi ha le sue caratteristiche ha le sue peculiarità e noi dobbiamo puntare a rafforzare i punti che sono già all'interno di noi mentre acquisiamo delle competenze che ovviamente arrivano dall'esterno quindi noi dobbiamo crearci quello che noi chiamiamo investito su misura solo in questa maniera nel medio lungo termine possiamo veramente diventare dei trader efficaci dei trader profittevoli bene io penso di essere arrivato al dunque vi lascio e ci vediamo al prossimo video mettete un like se vi è piaciuto ciao a tutti